Ah, Gorizia, sei come un libro di storie fantastiche che aspetta di essere sfogliato. Ogni pagina rivela un capitolo nuovo e sorprendente della tua storia, dalle battaglie che hanno modellato il tuo spirito alla saggezza tramandata nei corridoi silenziosi dei tuoi antici monasteri. Camminando per le tue strade, sento il sussurro dei secoli passati, narrazioni di eroismo e devozione, di arte e di scienza, che si intrecciano in un tessuto ricco e variegato. Ogni angolo di te racconta una storia, ogni pietra è testimone silenzioso di glorie e sfide. Come avrete capito, sono Ignigo Lopez de Loyola, nato nel 1491 nei Paesi Baschi, e la mia vita, come la vita di tanti di voi, è piena di progetti e controprogetti.